Bene, allora da parte mia un benvenuto a tutti i partecipanti, io sono Alessandro Braghetto e sono uno dei tecnici di NKE, Negronic Engineering, e condurrò la sessione di questa mattina dedicata ad Autodesk 3DS Max. Prima di vedere direttamente il software e alcuni esempi di possibili applicazioni, una veloce presentazione di NKE, per chi magari ancora non ci conoscesse, NKE, Negronic Engineering è un partner Autodesk, è un platinum partner Autodesk, è la certificazione massima che Autodesk riconosce ai propri partner. Siamo presenti sul territorio nazionale con 13 sedi distribuite da nord a sud, come potete vedere nell'elenco, e siamo presenti anche con 4 sedi in Spagna. Siamo più di 70 persone, complessivamente, che si occupano di seguire la parte relativa ai software Autodesk, quindi ci sono come me figure che si occupano della parte tecnica, così come ci sono ovviamente figure che invece si occupano della parte commerciale, quindi tutto ciò che è relativo alle licenze, ai contratti di manutenzione o di noleggio delle licenze Autodesk. Siamo partner anche HP, proprio perché può essere utile avere una infrastruttura che consenta al meglio di utilizzare i software, possiamo consigliarvi e assistervi anche da questo punto di vista, per cui tutto ciò che è relativo a Workstation che siano fisse piuttosto che mobile, stampanti, plotter, schermi, insomma tutto ciò che è necessario per quanto riguarda la parte hardware relativa ad un ufficio tecnico. Inoltre siamo partner Stratasys per quanto riguarda le stampanti 3D. In questa immagine che adesso vedrete ho riportato un estratto dal nostro sito in cui sono presenti appunto le sedi, quindi fisicamente dove siamo posizionati. Il nostro sito è nke360.com, a cui vi rimando per avere informazioni aggiornate su quelle che sono le promozioni magari attive nel periodo per quanto riguarda appunto le licenze o gli eventi che svolgiamo, eventi che possono essere eventi via web come quello di questa mattina che periodicamente facciamo. Per quanto riguarda le webcast relative al settore AEC, quindi architettura, ingegneria e costruzioni, con quella di oggi si conclude un po' un ciclo iniziato già nei mesi scorsi, poi ne organizzeremo altre, magari anche relativamente a 3D studio, ma anche relative ad altri software, poi nelle prossime settimane. Per cui se avete così la curiosità o l'interesse in merito a questi prodotti fate riferimento ovviamente al nostro sito, così come siamo presenti sui principali social media, a cui vi rimando per avere appunto informazioni ed essere costantemente aggiornati su quello che normalmente facciamo. Al di là della parte licenze, quindi alla rivendita dei software Autodesk, NKE fornisce una serie di servizi, servizi di assistenza che possono essere evidentemente utili quotidianamente nel momento in cui si lavora con i software, è un'assistenza che può essere erogata con modalità differenti dall'assistenza telefonica, che è quella, se vogliamo così, più rapida anche, che vi permette di avere dall'altra parte della linea un tecnico, potrei essere io o uno dei miei colleghi che vi può assistere, quindi aiutarvi a risolvere la problematica specifica, così come può essere un'assistenza che invece prevede il collegamento con la vostra postazione, quindi la verifica direttamente sul vostro file, sul vostro documento, qualora questo presentasse qualche problematica, così come possiamo eventualmente assistervi anche direttamente accanto a voi, per cui un'assistenza on site con la persona tecnica che vi affianca e vi può di conseguenza aiutare a risolvere problematiche magari un pochino più delicate. Ci occupiamo di formazione e anche per quanto riguarda la formazione i metodi di erogazione sono diversi, per cui è prevista una formazione cosiddetta standard secondo contenuti e tempistiche diciamo predefinite in sedi che sono preorganizzate andando a raccogliere magari figure, realtà, studi che si occupano anche di tematiche differenti ma che lavorano con lo stesso software, quindi la classica formazione in classe con un programma preimpostato o altrimenti una formazione di tipo personalizzato, in questo caso sarà il docente, il tecnico che viene da voi e sulla base di un programma concordato con voi in merito ai contenuti e in merito ai tempi andrà a svolgere appunto una formazione più mirata, più specifica, ritagliata sulla base delle esigenze che da voi saranno indicate. Ci occupiamo di gestione dei progetti, quindi c'è una parte di NKE con figure che sono prettamente dedicate ai software di gestione documentale, quindi software PDM così come i software di gestione di ciclo di vita del prodotto e questo è un ambito se vogliamo molto più ritagliato nell'ambito manifatturiero, nell'ambito meccanico. Per quanto riguarda invece il settore EC, che è quello che mi vede un pochino più coinvolto, per quanto riguarda i progetti BIM siamo attivi ormai da un po' di tempo un po' su tutto il territorio nazionale, per cui affianchiamo studi di progettazione assistendoli appunto in merito alla configurazione ottimale e all'adozione dei software che lavorano appunto secondo un processo, secondo una tecnologia di building information modeling. Ci occupiamo anche di customizzazione, di personalizzazione delle applicazioni, per cui sempre al nostro interno sono presenti tecnici che si occupano di programmazione, di sviluppo appunto, laddove c'è un'esigenza specifica e quindi una, come dire, un'attività che magari si ripete nel tempo e che non è prevista di default dal software, allora possiamo intervenire noi andando ad implementare il prodotto aggiungendo quelle funzionalità che sono necessarie. In queste immagini invece ho riportato qualche informazione relativa a me, ho riportato anche un mio contatto, qualora abbiate bisogno eventualmente di ulteriori approfondimenti che non possono essere magari risolti o gestiti attraverso il pannello delle domande che avete a vostra disposizione, per cui iscrivetemi all'indirizzo che lì ho riportato alessandro.braghetto.nke360.com, sarà mia cura, mia premura rispondervi quanto prima e quindi dare una risposta a quelle che sono appunto le vostre questioni. Io vi sto parlando della sede NKE di Torino, io sono un tecnico certificato Autodesk, da ormai un certo periodo mi occupo di seguire dal punto di vista tecnico i software Autodesk relativi al settore AIC, quindi quello dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni. Ho riportato anche nuovamente il nostro sito e così come ho riportato l'indirizzo email di Andrea Torre, l'architetto Torre, a cui potete ovviamente scrivere attraverso l'indirizzo che li ritrovate, e il responsabile per NKE del settore AIC, quindi laddove ci fossero questioni magari un po' più di taglio commerciale relativi quindi alle licenze dei software Autodesk e non solo, fate riferimento ad Andrea, per il resto per quanto riguarda questioni tecniche scrivete direttamente a me. Con questo direi che abbiamo terminato la parte, questa overview generale relativa a NKE, Nekronic Engineering e adesso invece vediamo un po' di più quanto riguarda invece il tema di quest'oggi che è Autodesk 3ds Max. Non so quanti di voi già attualmente lo utilizzino, lo usino, lo abbiano usato in passato, 3ds Max è un software di modellazione, un software di visualizzazione, si colloca di fatto trasversalmente a quelli che sono i diversi settori con cui sono soddivisi i prodotti Autodesk. Di fatto 3ds Studio viene utilizzato appunto trasversalmente sia da chi si occupa di una progettazione di tipo architettonico, ma allo stesso modo viene utilizzato anche da chi si occupa di una progettazione di tipo manifatturiero, quindi meccanico, così come viene utilizzato da chi si occupa di progettazione infrastrutturale o chi esegue invece lavori relativi alla parte multimedia ed entertainment. 3ds Studio Max è un software che ha una storia decennale, molto utilizzato da chi fa gaming, la maggior parte dei videogiochi sono sviluppati su 3ds, ma storicamente viene molto utilizzato anche proprio per la produzione di immagini e di animazioni, di filmati che descrivano quindi da un punto di vista fotorealistico un modello, un modello spesso architettonico. L'interfaccia che vedete, l'interfaccia che di default viene proposta da 3ds Studio, quindi quanto si ritrova una volta terminata l'installazione è quello che vedete davanti ai vostri occhi, per cui ha conservato 3ds Studio nel corso del tempo una struttura di fatto abbastanza costante, pur adottando così come è successo per altri software Autodesk, quello strumento che altro non è che la barra multifunzione e in questo momento è parzialmente visibile, anche perché non sono nel contesto giusto per utilizzare gli strumenti relativi alla modellazione, piuttosto che alla modellazione freeform, piuttosto che alla pittura sugli oggetti o all'inserimento di oggetti di popolazione, quindi persone che vanno a riempire quello che è la scena architettonica di un modello realizzato con 3ds o che eventualmente viene importato. Nella parte in alto sono presenti i menu che, come capita in altri software, organizzano i diversi comandi, anche se il cuore vero e proprio relativo alla creazione e alla modifica degli oggetti è il pannello degli strumenti che è collocato sul lato destro della nostra interfaccia, quindi questo pannello al momento abbastanza vuoto si riempirà di parametri, di proprietà, di opzioni che consentano di gestire la creazione dell'oggetto o che consentano di modificare l'oggetto che è già stato modificato. Consideriamo che gli oggetti di in 3ds sono fortemente editabili, per cui abbiamo tra le mani degli elementi che sono, come dire, pronti ad essere modificati in modo molto libero attraverso la selezione di punti e la selezione di superfici, di bordi e quindi abbiamo la possibilità di modellare fortemente anche un oggetto direttamente all'interno di 3ds studio. Ovviamente è possibile portare all'interno di 3ds studio anche file che provengono da altri software, per cui nel momento in cui la modellazione viene realizzata con altri strumenti, questi oggetti possono entrare all'interno della scena di 3ds ed essere poi i gestiti, magari proprio per un discorso di visualizzazione, di rendering, di animazione. Nell'immagine, nella finestra di dialogo che ho aperto, che è quella relativa all'importazione di un file esterno, vedete come l'elenco sia un elenco piuttosto lungo e che contiene formati di molteplici software, Autodesk ma non solo. Quindi diciamo che è abbastanza naturale che i principali software Autodesk che dialoghino con 3ds, così come è altrettanto probabile che un modello realizzato con un diverso prodotto possa entrare ed essere gestito per produrre una visualizzazione, per produrre un rendering all'interno di 3ds studio, per cui vediamo software che non sono prodotti da Autodesk, vediamo KTA, vediamo Pro Engineering, vediamo UG, vediamo tutta una serie di prodotti di altri vendor, ma che comunque possono essere tranquillamente gestiti e lavorati all'interno di 3ds Max. L'obiettivo della giornata è di farvi vedere, di questa sessione, alcune caratteristiche del software dedicate appunto alla visualizzazione, al render. E per far questo comincio a partire da un file, da un file di esempio di 3ds studio in cui sono già presenti dei modelli, degli elementi. Togliamo la visualizzazione appunto delle ombre che in questo momento non sono così necessari e così vediamo anche un po' come come lavora e che cosa è in grado di produrre 3ds Max. Il file che ho aperto è un file di esempio con una serie di geometrie che sono state in parte modellate all'interno di 3ds studio, altro non sono che primitive, più o meno semplici che sono state raggruppate e collocate per dare così l'idea di una rappresentazione di un modello che possa essere appunto visualizzato. gli oggetti di 3ds studio sono oggetti costantemente raggiungibili ed editabili, per cui un elemento qualunque esso sia può essere poi velocemente modificato. Facciamo un esempio molto ma molto semplice di modifica dei nostri elementi, per cui cambiamo magari anche un po' la grafica che questi oggetti hanno. Vediamo qui un volume, magari cerchiamo anche di isolarlo così da non avere il disturbo degli altri elementi che compongono la scena. Questo che è un volume 3d nativo di 3d studio ma che potrebbe essere anche stato realizzato con un altro prodotto, vedete che non è semplicemente un oggetto solido, fine a se stesso, ma si presenta comunque come un'entità editabile. La modifica degli oggetti può avvenire attraverso la selezione delle parti che compongono questi elementi. Per cui è come se io avessi, tra virgolette, esploso l'oggetto, ma è un'esplosione sempre controllata che consente quindi di decidere su quale parte andare ad operare, per cui posso decidere di modificare l'elemento attraverso lo spostamento dei vertici, piuttosto che dei bordi, delle facce o dei poligoni. In questo senso nel momento in cui poi viene selezionato quello che si chiama il suboggetto che compone l'elemento, sarà possibile editarlo, per cui in maniera molto plastica, vedete che io posso traslare la superficie, così perché ho scelto di modificare quello che è il poligono che compone questo elemento, così come posso invece decidere di lavorare direttamente sul vertice. La modifica del vertice andrà poi a produrre ovviamente la modifica anche di tutto ciò che è collegato a quel vertice, per cui le facce ulteriori che arrivano su quel suboggetto si modificheranno di conseguenza. Gli elementi sono molto plastici, pronti per essere modellati in modo molto libero, per cui la modifica che io sto eseguendo è una modifica che direttamente a video sto lavorando, ovviamente c'è la possibilità di intervenire anche poi con delle quote, perciò con dei valori finiti, con delle misure che siano misure precise, per cui il modello è un modello costantemente rigoroso che può essere lavorato, per cui in qualunque momento io ho la possibilità di dare valori agli elementi che compongono la mia scena. In questo contesto, diciamo così, architettonico del nostro modello, adesso riapro anche tutto il resto che era stato posizionato, è possibile non solo importare o modellare geometrie, ma è possibile anche ovviamente importare, collocare anzi, punti di vista, che siano punti di vista specifici, scelti, definiti da me, attraverso l'inserimento di cineprese. In questo momento ce ne sono già un paio collocate all'interno di questa scena, vediamo come si posiziona un punto di vista, quindi una camera nuova all'interno della scena, passando dal menu, dal pannello degli strumenti, dal pannello di creazione, io da qui posso intervenire e crearmi di conseguenza il mio elemento. Il mio elemento che andrà a definire appunto un punto di vista specifico, un punto di vista che rimarrà all'interno della scena stessa e che potrò utilizzare per la produzione delle mie immagini, che siano statiche o animate cambia poco, di fatto la cineprese è un'entità con nome e con una serie di caratteristiche che viene collocata all'interno del progetto. Questa cineprese appunto ha un nome e di conseguenza come tale la potrò richiamare dal menu, quindi la mia cineprese che si chiama camera 003, velocemente potrò mettermi all'interno della camera stessa e di conseguenza visualizzare quello che viene osservato dalla camera. L'oggetto è stato collocato sul piano 0, quindi di fatto si vede ancora poco degli elementi perché sarà necessario appunto gestire la posizione di quella cineprese al fine di ottenere quel punto di vista che sia necessario per descrivere il progetto. La modifica di questo tipo di elementi avviene direttamente sull'oggetto per cui io posso spostare, ruotare, scalare, avendo costantemente a video attraverso il riquadro che vedete qui posizionato in alto a destra, il risultato della modifica che sto eseguendo. Sto traslando sul piano XY la mia camera e direttamente qui nella vista di quella camera vedrò che cosa attualmente è cambiato. Ovviamente se cambio la vista su cui lavoro, quindi non lavoro più sul piano XY ma adesso lavoro lungo la direzione di Z, vedete come direttamente nel mio riquadro, nella mia viewport ci sia un aggiornamento del contenuto in maniera tale che sia costantemente percepibile la modifica che viene apportata a questo tipo di elemento. Sto modificando il punto di vista della mia cinepresa, ovviamente potrei modificare anche il target che è un altro punto di controllo che mi può aiutare per gestire la visualizzazione della scena. Così come altrimenti potrei lavorare sulle proprietà della camera stessa, per cui la cinepresa è un elemento che si gestisce attraverso una serie di focali, di ottiche che possono essere appunto montate sulla cinepresa, ci sono dei valori predefiniti che possono essere scelti attraverso il pannello di modifica che abbiamo qui sulla nostra destra, così come eventualmente possiamo lavorare direttamente sui valori e crearci quindi un'inquadratura nostra personalizzata proprio come se avessimo in mano l'obiettivo del nostro apparecchio fotografico. Questa scena oltre a contenere geometrie, oltre a contenere camere, potrà anche contenere degli elementi che portino luce, che illuminino la scena stessa, quindi gli oggetti possano essere illuminati secondo certe caratteristiche. Il pannello di creazione è un pannello che appunto suddivide i diversi possibili elementi che possono entrare nella scena. Quindi in un progetto di 3D Studio noi possiamo collocare elementi tridimensionali, quindi le geometrie, possiamo collocare elementi bidimensionali, cioè delle forme, delle shapes, così come potrebbero essere eventualmente anche dei dvg, 2d che carico, che importo all'interno della scena e che poi modifico attraverso operazioni di estrusione, di rivoluzione, attraverso operazioni booleane che mi consentano di accorpare solidi e vuoti. Ma posso anche collocare luci. Le luci che possono essere inserite sono luci di vario tipo. Il pannello che vedete in questo momento mi consente di inserire una luce che di fatto è molto simile come comportamento a una luce artificiale, quindi se dovessi inserire un faretto, se dovessi inserire un qualcosa di simile ad un proiettore con caratteristiche ovviamente che possono essere da me gestite, potrei utilizzare un tipo di lampada come questa. Non uso in questo momento questo tipo di oggetto perché vi farò vedere le caratteristiche delle luci fotometriche su un altro file un po' più ridotto in cui sarà possibile capire un po' di più il senso di questo che vi sto dicendo. Io vorrei inserire in questo momento per quanto riguarda la mia scena relativa ad una porzione di città, quindi un modello, pensiamolo ad un modello architettonico, una luce che sia invece simile come comportamento alla luce del sole. Io sto dicendo simile ma in realtà gli oggetti illuminazione si comportano in modo assolutamente identico poi agli oggetti reali, proprio perché sono strutturati per comportarsi effettivamente come una luce naturale del sole. Al fondo del mio pannello di creazione è presente il gruppo di oggetti relativi ai sistemi che altro non sono che oggetti multipli tra di ruolo coordinati. Io adesso posiziono un daylight system, un sistema di luce diurna, che è un elemento che io posso controllare e posizionare all'interno del mio progetto in maniera tale che si comporti come si comporterebbe effettivamente la luce solare. La luce del sole è di fatto una luce anch'essa fotometrica, quindi che illumina secondo caratteristiche fisiche corrette e coerenti, che ha una serie di caratteristiche. Innanzitutto è la somma di due luci diverse. Il daylight, che adesso proviamo a vedere un po' meglio in questa vista laterale, è composta in realtà da due sorgenti luminose. Vi è la luce principale del sole, che è questo elemento che è collocato al di sotto di questa semisfera, che è la luce principale, è la luce che illuminerà le superfici in modo diretto, è la luce che proietterà le ombre, anche degli oggetti che sono presenti all'interno della nostra scena, a cui poi si affianca una luce diffusa, che è la luce del cielo. Vedete qui nella parte destra, nel mio pannello degli strumenti, che adesso sto guardando all'interno del pannello di modifica, di fatto le luci presenti sono due, sono il sole ed il cielo. L'MR che vedete accanto sta per Mental Ray, che è uno dei motori di rendering presenti all'interno di 3D Studio. Quindi questo è il sole di Mental Ray ed il cielo di Mental Ray. Luce diretta, luce diffusa. La luce diretta può essere gestita manualmente, quindi la colloco, se voglio, secondo una certa direzione, a partire da una certa altezza, oppure la posso regolare in funzione di una data, di un'ora e di una specifica posizione. Per cui attraverso il pannello di setup posso specificare appunto dove mi trovi con il mio progetto. Quindi sono all'incirca in questa zona, per cui vedete che posso cliccare sulla cartina e ci penserà poi il software a rintracciare se è presente una delle città collocate all'interno di questo elenco. Di fatto il dato importante di questo è la lettura della latitudine e della longitudine, che altrimenti se non ci fosse la città presente all'interno dell'elenco, il problema lo si risolve direttamente cliccando all'interno del campo latitudine e longitudine, così da posizionare correttamente il sole, anzi il modello, in una specifica posizione geografica. Così come abbiamo la possibilità di gestire l'ora, quindi modificando l'orario diventa evidente come il sole cambi posizione o la data. Ovviamente scegliendo una data diversa il sole occuperà una posizione differente rispetto all'orizzonte. Se siamo più vicini al solstizio il sole tenderà ad essere molto più basso sull'orizzonte, al solstizio d'inverno, se siamo vicino a giugno ovviamente questa luce tenderà ad essere emessa da una posizione molto più alta rispetto all'orizzonte stesso. Questa luce sul nostro modello andrà a proiettare delle ombre, ombre che possono essere di fatto anche già viste all'interno della nostra scena, per cui sarà possibile se necessario anche già cominciare a ragionare su quale sia l'effetto di illuminazione del mio modello in una certa situazione. Vedete qui in questo riquadro che io ho attivato la visualizzazione delle ombre e queste ombre vengono proiettate in funzione proprio della luce che io ho posizionato del mio daylight. Cambiassi la posizione, le proprietà del mio oggetto diventa abbastanza evidente come cambi la proiezione delle ombre stesse all'interno del mio del mio modello e questo potrebbe essere utilizzato non solo in funzione di quella che è la produzione di un'immagine quindi di un di un di render che debba essere elaborato sul modello stesso ma anche utilizzato come strumento di analisi per capire come si relaziona il mio progetto magari rispetto al contesto. Ora che ho il modello, che ho posizionato le luci, ho la possibilità di cominciare a ragionare in termini di rendering. Facciamo un esempio, facciamo una prova veloce di calcolo di render della nostra scena così vediamo come influisce quel sole, quelle luci, quegli elementi che sono presenti attualmente e per far questo ho aperto la finestra appunto di render setup che è la finestra con cui viene impostato il render. Finestra che mi consente di scegliere le dimensioni con cui debba essere renderizzato il mio modello, la dimensione del rendering quindi il frame, il fotogramma che deve che deve essere elaborato così come posso scegliere, questa è una caratteristica estremamente importante, con quale motore di rendering 3d studio debba eseguire questo processo. In 3d studio sono presenti diversi motori di rendering, quello che probabilmente conoscete un po' di più perché storicamente presente è mental ray che è un motore di rendering che è stato introdotto ormai diversi anni fa in 3d studio ma non solo e che è quello che ho impostato attualmente all'interno di questa di questa scena ma ho la possibilità di scegliere anche tra motori di rendering diversi. Il motore più nuovo che è stato introdotto in 3d studio ma non solo perché anche Revit lo utilizza anche di fatto showcase così come AutoCAD lo utilizzano è ArtRender che sta per Autodesk Ray Tracer quindi posso valutare a seconda delle situazioni, a seconda delle preferenze quale motore di rendering usare eventualmente posso anche montare ulteriori motori di rendering. 3d studio spesso e volentieri soprattutto per quanto riguarda interni viene lavorato con con V-Ray per cui V-Ray è un motore di rendering esterno da acquistare separatamente rispetto a 3d studio che viene installato e si aggiunge a 3ds che potrà essere scelto e di conseguenza utilizzato per questo tipo di processo. Caratteristica importante ancora che non abbiamo gestito è l'ambiente quindi vado giusto velocemente a controllare che sia tutto a posto magari mi metto anche sulla viewport che voglio utilizzare per la produzione del render. Che cos'è l'ambiente? L'ambiente altro non è che questo pannello che io ho aperto e che mi consente ancora di fare ulteriori regolazioni su quella che è la mia sulla mia macchina fotografica che sto utilizzando. Le macchine fotografiche solitamente hanno un esposimetro che valutano in funzione delle condizioni che ci sono al contorno quanto debba rimanere aperto l'otturatore o come debba essere regolato il diaframma. Questi valori che sono di fatto editabili manualmente attraverso il pannello sono anche racchiusi in un unico parametro che si chiama exposure value e che va a modificare appunto il risultato dell'immagine quindi immagini a volte che sono molto scure probabilmente hanno bisogno semplicemente di una regolazione dell'esposizione quindi fare in modo che entri più luce che venga sentita più luce dal sensore della nostra macchina fotografica e di conseguenza l'immagine possa essere catturata in maniera più corretta così come altrimenti come vedete in questo esempio invece l'immagine può risultare troppo esposta sovraesposta in questo caso evidentemente i tempi di apertura del nostro tratturatore sono eccessivi per cui l'immagine tende ad essere bruciata ma sono valutazioni queste che possono essere eseguite direttamente su questa preview su questa piccola preview che vedete nel pannello ma al tempo stesso anche direttamente all'interno della nostra viewport e questo ci agevola nella produzione delle prove anche perché solitamente il rendering non è mai un qualcosa che viene prodotto immediatamente al primo colpo con un risultato soddisfacente bisognerà fare una serie di prove se queste prove possono essere limitate o comunque gestite durante lo sviluppo del progetto vi evitano poi di attendere magari eccessivamente le produzioni delle vostre immagini lancio render sarà un'immagine piccola però vedete che viene elaborata in un tempo di fatto molto molto ridotto e che ci dà l'idea di come viene illuminato il nostro modello secondo queste caratteristiche ovviamente se modifico quelle che sono le proprietà della mia luce quindi adesso mi sposto leggermente questo pannello così da essere un pochino più comodo se modifico ad esempio il l'orario e mi spostarsi ad un orario molto più vicino a quello che è l'ora del tramonto poi il successivo rendering elaborato scusate ho sbagliato a scegliere la viewport rifacciamolo cambierà il risultato per cui in tempo reale di fatto ho una percezione di come cambi la scena in funzione delle variazioni che vengono eseguite sul mio sul mio modello queste sono prove elaborate in pochi secondi l'immagine è un'immagine piccola potrei nel momento in cui reputo ottimale la configurazione dei materiali delle luci insomma di tutto ciò che compone la mia scena intervenire sulle dimensioni del frame e produrre poi l'immagine definitiva consideriamo inoltre che quando si utilizzano le luci naturali come sono le luci appunto del sole abbiamo la possibilità costantemente di visualizzare anche all'interno del nostro modello quello che è un cielo un cielo fittizio per cui rielaboro qui il mio il mio render vedete come la parte che non è occupata da geometrie quindi ciò che background sostanzialmente lo sfondo si riempie di una mappa procedurale è un cielo adesso cerchiamo magari di orbitarlo leggermente così da riuscire magari a intravederlo un po meglio facendo una vista un po più di scorcio molto più dal basso quindi vedrete che la zona attorno a quella che è effettivamente la luce del sole si riempirà con un con un bagliore che altro non è che la luce intensa del sole che che viene calcolata quando ancora si interviene sulla luce del sole stessa per cui si modificano gli orari e questo di conseguenza andrà a portarsi molto più in basso su quello che è l'orizzonte non solo cambieranno le luci ma cambieranno anche il colore della luce stessa che viene messa i colori dello sfondo in maniera tale che appunto noi possiamo sempre relazionare il nostro modello inquadrato secondo una vista di esterno su un esterno che sia verosimile altro esempio cambiamo file e vediamo invece un qualcosa relativo alle luci alle luci artificiali in questo file che voi state vedendo è un file molto molto ridotto come contenuto è presente una una luce questo è un file che io ho non ho creato direttamente quindi il modello 3d che voi vedete di questo faretto non è stato da me modellato ma è stato scaricato ci sono aziende italiane e non in questo caso questo modello è di una luce italiana di un'azienda italiana che si chiama simes che produce appunto dispositivi di illuminazione e di simes la maggior parte dei prodotti del loro catalogo è già disponibile come elemento utile da utilizzare all'interno di un software cad ci sono librerie di simboli tridimensionali che possono essere usati in 3d studio quindi c'è una libreria di file punto max o 3ds così come ci sono famiglie di revit che già sono composte già sono definite in maniera tale che abbiano l'aspetto grafico dell'oggetto ma anche le informazioni relative all'illuminazione in questo caso voi vedete il modello 3d e poi ho aggiunto io qui accanto una una sorgente di illuminazione adesso la sposto leggermente ma giusto perché almeno così vediamo qual è stato il processo da me utilizzato per eseguire questo tipo di di attività ok e questo lo spostiamo all'incirca così lo sposto in direzione di x di un metro e poi faccio che spostare anche il target dello stesso valore così almeno ce li ho poi disponibili per rimetterli nella loro posizione allora come ho proceduto per far sì che questa lampada illuminasse in un certo in un certo modo andando ad inserire appunto una di quelle luci di quelle sorgenti di illuminazione che sono presenti all'interno del nostro pannello io ho inserito in questo caso una luce con target una target light dove il target altro non è che questo punto di controllo che trovo alla fine della direzione della mia luce quindi l'ho disegnata né più nemmeno che in questo modo collocandola leggermente ovviamente al di fuori rispetto al corpo della mia della mia luce poi ovviamente spostandomi su direzioni diverse l'ho anche regolata in maniera tale che fosse che fosse collocata nel punto giusto quindi l'ho sollevata in modo che fosse abbastanza centrata e in questo modo di fatto ho prodotto la mia la mia lampada il la sorgente di illuminazione è un'entità che può che deve anzi essere impostata in maniera tale che la luce emessa abbia certe specifiche caratteristiche in questo ci aiuta indubbiamente il pannello che abbiamo qui sulla nostra destra il pannello di modifica in cui posso decidere ad esempio il colore che deve avere la luce emessa in funzione di una certa tipologia di lampada per cui vedete che sono presenti una serie di tipologie di luci diverse abbiamo la possibilità di assegnare un'intensità abbiamo tutta una serie di parametri che ci consentono appunto di definire come la luce debba essere emessa da questa sorgente scegliendo anche una distribuzione quindi la luce viene emessa da una sfera luminosa come ci viene attualmente proposto sia invece un faretto che andrò a regolare specificando le dimensioni le aperture dei coni che qui vediamo di hotspot fall off quindi sono le dimensioni del campo in cui viene emessa la luce dell'area in cui c'è l'intensità di luce che io ho impostato sono regolazioni che manualmente vengono eseguite e che manualmente vi producono una sorgente di illuminazione può andar bene in alcune situazioni ma dal momento che noi vogliamo cercare sempre di ottenere un risultato il più possibile fedele sarebbe ancora migliore utilizzare invece quei dati che l'azienda che produce quelle luci ha già preventivamente misurato ovvero Cimes quando ha creato questo faretto, questo loft parete avrà montato una lampadina all'interno di questo corpo avrà montato poi tutta la lampada all'interno di un fotogoniometro e avrà misurato come la luce da questa lampadina all'interno del corpo viene emessa il fotogoniometro ha poi prodotto un file fotometrico un file che solitamente ha estensione IES e che misura proprio la distribuzione della luce stessa se noi riuscissimo a aggiungere questo file fotometrico alla lampada avremo tra le mani un dispositivo di illuminazione che illumina proprio come nella realtà illuminerebbe questo loft parete e questo è un dato che può essere specificato all'interno delle nostre lampade per cui io posso scegliere di utilizzare un file fotometrico un file fotometrico che ritrovo all'interno delle mie risorse adesso in questo caso io ho sfogliato arrivando ad una cartella mia ma questo file IES l'ho sempre scaricato dal sito della CIMES lì dove ho trovato il file max della lampada era presente anche il file IES con le caratteristiche illuminotecniche di questo oggetto e questo lo posso associare direttamente al mio elemento questo file fotometrico regola di conseguenza le caratteristiche della lampada per cui l'intensità viene già settata secondo determinati valori i colori emessi anche saranno già regolati ma soprattutto la distribuzione della luce sarà diversa per cui adesso non so se l'abbiate percepito si è modificata la forma della sorgente di illuminazione questo elemento tridimensionale giallo che si trova al centro del mio proiettore è stato editato, è stato modellato proprio sulla base della luce emessa e questo ci garantisce appunto un risultato più fedele dal punto di vista dell'illuminazione vi faccio vedere un altro esempio dove io sono andato a montare di fatto queste lampade all'interno di una semplice scena per cui qui io ho riportato facciamo questa piccola modifica mi copio il tutto così da avere un risultato possibile ecco che qui ho la mia cinepresa vedete che qui ho il mio corpo illuminante c'è la sorgente di illuminazione che lì è stata regolata e questa la posso utilizzare appunto per la produzione delle mie immagini nella viewport che vedete in questo momento di questo interno io sto vedendo in preview quello che sarà poi un risultato abbastanza simile nel render cioè vedrò la distribuzione delle mie luci in tempo reale e questo mi consente di valutare ancora prima di fare il render come la luce verrà emessa all'interno della scena questo è possibile perché io ho impostato l'attivazione delle mie luci e che quindi vengono considerate dalla scheda grafica in questa preview quindi un'opzione che si imposta attraverso il menu che troviamo qui nei comandi nella viewport dove posso decidere di attivare o disattivare la visualizzazione delle ombre e considerare o meno quella che è la proiezione delle luci delle sorgenti delle luci presenti sulla scena e qui avrò una modifica che direttamente valuterò per cui se la luce la sposto vedete come direttamente io abbia una modifica all'interno della mia viewport cosa che capiterà poi anche tra poco durante il render perciò questo ci consente di fare delle valutazioni preventive che siano molto più utili di quanto non sia produrre in successione tutta una serie di calcoli di processi di rendering riducendo di fatto i tempi nel momento in cui renderizzo vedrò l'effetto di quelle lampade collocate all'interno della mia scena con poi tutti gli effetti associati ai materiali quindi riflessioni, rifrazioni e quant'altro ma per quanto riguarda la distribuzione della luce sulle superfici degli oggetti avrò un qualcosa di molto simile a quello che era già stato calcolato precalcolato all'interno della mia viewport e qui vediamo appunto che questi effetti di luce sono molto simili a quelli che erano presenti già in viewport questo aspetto relativo alle luci diventa estremamente importante anche nel momento in cui noi lavoriamo già con altri software che ci permettano di collocare dispositivi di illuminazione esempio intanto facciamo un reset di questo quindi chiudo il file in questo caso io sono passato a Revit ho aperto un file di Revit in cui avevo già collocato delle lampade se notate anche in Revit sono già presenti una serie di dispositivi di illuminazione alcuni sono già noti quel loft parete io l'avevo già montato all'interno di questa scena ce ne sono altri quelle luci che sto selezionando le luci che sto selezionando in questo momento sono sempre le luci della Cimes che ho sempre scaricato dal loro sito o da VimObject dove da un po' di tempo sono anche presenti qui in questo punto c'è un altro dispositivo di illuminazione che è l'arco di Castiglioni eccola qui questa lampada non aveva il file IS io l'ho trovato sul sito e l'ho associato direttamente all'interno di Revit perché in questo caso io avevo la necessità di lavorare su Revit per quanto riguarda la produzione del modello tridimensionale altri faretti o altri dispositivi da controsoffitto o da soffitto che vediamo qui su questo corridoio sono sempre dispositivi di illuminazione scaricati da internet sono oggetti della ZoomTobel fatti come quelli della Cimes molto molto bene e che hanno al loro interno già la fotometria io posso da Revit arrivare direttamente in 3DS per cui è previsto quello che si chiama un workflow un flusso di lavoro ottimizzato in maniera tale che la geometria così come è stata definita con i materiali con le luci appunto possa finire all'interno di 3DS lo eseguo così vediamo anche i tempi necessari per fare questo tipo di operazione lo porto nella mia scena aperta vuota di 3DS continuo quello che sta facendo adesso questo workflow altro non è che la raccolta delle informazioni e il suo trasferimento all'interno di 3DS vedete che qui in basso nella mia barra di stato di Windows c'è l'icona di 3DS che lampeggia sono finito in 3DS ho il mio modello di Revit presente in 3DS con tutto ciò che era stato definito in Revit compresa la camera quindi la cinepresa che io ho chiamato in Revit vista 3D interno 1 e se lo notate anche qui in Revit io ho la vista 3D che si chiama interno 1 quindi questo punto di vista da me viene memorizzato in Revit viene conservato viene trasferito all'interno di 3DS è un punto di vista che per me era importante che io ho specificato nell'altro software ma che ritrovo di qua ritrovo le geometrie quindi gli elementi solidi sono presenti ma saranno presenti ovviamente anche tutti i materiali per cui gli oggetti che io vedo sono gli oggetti così come erano stati definiti all'interno di Revit appunto se prendo il materiale dal muro che io ho collocato su Revit vedrò gli strati che compongono quel muro ed i relativi materiali dal momento che il Revit l'oggetto io l'avevo definito come oggetto stratificato quindi con una parte di calcestruzzo all'interno e due strati di intonaco sui lati qui ritroverò un materiale cosiddetto multisuboggetto che mi rimostrerà tutti i materiali che sono stati utilizzati su quella geometria materiali che saranno costantemente raggiungibili ed editabili quindi così come li ho definiti in Revit allo stesso modo li trovo gestibili all'interno di 3D Studio modificabili all'interno di 3D Studio per cui se decidessi di modificare il colore io cambio il colore sul mio elemento e tutti gli oggetti che lavorano con quelli intonaco verranno modificati di conseguenza per cui la modifica è una modifica che posso eseguire in qualunque momento all'interno di 3DS ovviamente la modifica rimarrà in 3DS non viene riportata in Revit però è un dato pronto già associato e gestibile così come ritrovo le varie le varie fotometrie per cui le luci che io ho collocato sono luci che come vi dicevamo prima sono presenti già all'interno della mia scena di 3DS con tutte le caratteristiche illuminotecniche che le contraddistinguono questo tipo di lampada che emette luce in due direzioni vedete che ha un file fotometrico un diagramma molto particolare e questo diagramma farà sì che la luce venga emessa verso l'alto e ovviamente verso il basso con determinate caratteristiche che sono già compilate all'interno della nostra scena quindi con una certa intensità con un certo colore che saranno sempre editabili se voglio ma di fatto non è così necessario perché quello è un dato già di fabbrica che il produttore mi ha messo in mano questa immagine è pronta per essere renderizzata così come questa immagine potrebbe anche essere gestita da un altro punto di vista nel senso io posso sì produrre un'immagine fotorealistica del mio modello ma posso anche pensare di fare delle valutazioni del mio modello con dei falsi colori che mi mostrino quindi come la luce si distribuisce all'interno della scena in funzione di determinati dispositivi di illuminazione appunto se adesso io renderizzo avvio il render della mia inquadratura quindi in questo caso ci vorrà un tempo di calcolo leggermente più lungo rispetto al precedente però vediamo come di fatto all'interno del nostro del nostro modello l'immagine venga prodotta facciamo solo una piccola modifica ma giusto per essere un pochino più rapidi ok mettiamo giusto il mental ray ok perfetto allora rifacciamo velocemente il calcolo del render giusto per almeno così riusciamo a percepire come si come si modifica come si visualizza appunto il la distribuzione della luce è una visualizzazione questa con un tipo di esposizione che si chiama pseudo color e che ci dà la possibilità quindi di valutare direttamente all'interno della nostra scena come le luci si distribuiscano per cui avviamo il render così lo vediamo direttamente abbiamo questa rappresentazione con falsi colori di fatto del nostro del nostro modello ma che ci dimostrano appunto come la luce si distribuisca quindi quali siano le zone eccessivamente illuminate quelle eventualmente con illuminazione ridotta è uno strumento questo che è disponibile anche per quanto riguarda Revit sul cloud e che ci dà appunto un report di questo tipo proprio per capire quali siano le aree su cui intervenire o le caratteristiche dei dispositivi di illuminazione su cui intervenire per avere un'illuminazione che sia il più possibile valida dal punto di vista del comfort quindi non solo possiamo utilizzare Revit per la produzione del modello che poi magari venga portato all'interno di 3D Studio per la produzione di un'immagine di presentazione ma al tempo stesso possiamo pensare di lavorare con 3DS anche usandolo come strumento di analisi come strumento che ci consenta di capire o di prevedere insomma quali possano essere le zone critiche del nostro del nostro progetto in funzione degli elementi che abbiamo collocato appunto all'interno del progetto stesso e qui vedete come sulle superfici degli elementi in funzione delle luci appunto che sono state inserite ci sia questa rappresentazione con i falsi colori che ci mostrano appunto come la luce si distribuisce sugli elementi esiste anche un ulteriore strumento di analisi all'interno di 3DSudio che si chiama Lighting Analysis che ci consente appunto di valutare in funzione della luce naturale e di avere anche una rappresentazione attraverso una griglia che posso collocare su un piano alla quota che per me è utile per descrivere il progetto di valutare appunto quali siano le distribuzioni delle luci all'interno di un ambiente e quindi magari valutare azioni che debbano essere eseguite sul progetto con l'inserimento di schermi con l'inserimento di altri elementi che in qualche modo garantiscano un comfort maggiore del mio ambiente stopperei qui il processo di render solo per farvi vedere un'ultimissima operazione anche se in parte l'abbiamo già vista in questo momento sempre riferita all'importazione di un di un modello 3D fatto all'esterno in questo caso io ho questo modello tridimensionale sempre pensato in Revit con alcuni punti di vista che sono stati predefiniti in Revit appunto anche in questo caso potrei pensare di portare direttamente qui su Revit su 3D Studio scusate il mio modello così come l'ho definito in Revit utilizzando sempre il suite workflow anche se di fatto potrei pensare di ereditare quella geometria anche direttamente all'interno di 3D Studio quindi quel suite workflow è pensato nel momento in cui nella macchina sono presenti entrambi software io poi sto lavorando con la suite dove appunto era presente questa caratteristica del suite workflow ma immaginando che il 3DS lo lavori lo utilizzi un utente differente da quello che lavora su Revit l'utente di 3D Studio si potrà collegare direttamente il file di Revit attraverso il link Revit ed essendo un link questo ci dà la possibilità di come dire definire un legame tra la scena di 3D Studio e l'ambiente di Revit viene modificato il file di Revit e vengono spostati gli oggetti ne vengono aggiunti o tolti in 3DS ho la possibilità con il reload con il ricarica di trovarmi questo tipo di modifiche direttamente altrimenti da qui facciamo velocemente così come abbiamo fatto poco fa il workflow verso 3DS Max quindi in questo caso sarà leggermente più lungo il processo perché il file è un po' più pesante rispetto rispetto a quello che avete visto prima su quel modello di interni dove c'era indubbiamente un numero inferiore di oggetti e quindi la raccolta delle informazioni che l'operazione che sta facendo in questo momento si completa in un tempo indubbiamente più ridotto in questo caso il file è un po' più grosso e quindi c'è un'attività di recupero dei dati che richiede un tempo maggiore ma si tratta di un tempo comunque vedrete molto ma molto ridotto perché nel giro di qualche istante all'interno della nostra scena di 3DS finirà il modello di Revit appunto sessione 3D Max attiva quindi lo facciamo finire direttamente lì dentro e adesso trasferisce i dati tra qualche secondo vedrete che l'icona qui nella mia barra di stato comincerà a lampeggiare questo indicherà che il trasferimento si è completato quindi nel giro quanto ci avremmo messo circa un paio di minuti il nostro modello anche complesso anche molto articolato ricco di geometrie ricco di elementi finisce in 3D Studio ed è pronto dall'altra parte per essere gestito i materiali impostati in Revit finiranno in 3D Studio il sole impostato in Revit finirà in 3D Studio la camera che io ho utilizzato poco fa finisce in 3D Studio quindi è di fatto né più né meno che lo stesso modello e poi da qui potrei pensare di lavorarlo per quanto riguarda il rendering appunto nel frattempo apro velocemente la mia finestra di render controllo che le dimensioni non siano dimensioni eccessive ok sto facendo un calcolo di un piccolo preview ma giusto per valutare se dal punto di vista dell'esposizione l'immagine è eccessivamente esposta o eventualmente sottoesposta ok avvio velocemente il render giusto per fare una prima prova ovviamente sarà una prova ancora molto grezza dal punto di vista dell'accuratezza di bordi e della finitura insomma delle superfici però era giusto per mostrarvi come le geometrie importate a partire da un software esterno come potrebbe essere Revit appunto diventano delle geometrie pronte per essere gestite e lavorate anche direttamente all'interno di 3ds max appunto quindi ci sono superfici che sono ancora molto riflettenti che andrebbero un minimo modificate ma è una modifica questa che potrei velocemente valutare di modificare direttamente all'interno di 3ds studio con questo terminiamo la parte di presentazione di 3ds max se ci sono domande rimango a vostra disposizione per le risposte nel frattempo terminiamo la registrazione